A seguito dell'ultimo DPCM del 2 marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà in vigore fino al 6 aprile, non ci sono le condizioni che la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum possa svolgersi dall'8 all'11 aprile 2021, dopo aver già rinunciato nel 2020 alle date in programma dal 19 al 22 novembre 2020. Pertanto gli enti promotori Regione Campania, Comune di Capaccio Pestum, Parco Archeologico di Pestum e Velia, in occasione del recente incontro con la direzione della BMTA, hanno posticipato la 23esima edizione da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre 2021, al fine di assicurare soprattutto sicurezza ma anche soddisfazione di risultati nell'incontro al fine di rilanciare la BMTA e farne la vetrina internazionale dell'offerta archeologica della Campania in termini di turismo culturale e di valorizzazione del patrimonio in un'ottica di sistema e di condivisione di buone pratiche, è stato istituito il comitato di indirizzo che vedrà protagonisti la regione con l'assessore al turismo Felice Casucci e il direttore generale per le politiche culturali e il turismo Rosanna Romano, il comune di Capaccio Pestum con il sindaco Franco Alfieri, il parco di Pestum Velia con il direttore Gabriel Zucdrigel e il consigliere di amministrazione Alfonso Andria. Al comitato di indirizzo sarà affiancato il comitato scientifico costituito dai parchi Pompei con il neodirettore Ercolano con Francesco Sirano, i campi Flegrei con Fabio Pagano e i musei archeologici Ilman di Napoli con Paolo Giulierini, dalla direzione regionale Musei del Ministero della Cultura con Marta Ragozzino e del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano Alburni con Tommaso Pellegrino. Infine gli enti promotori, su indicazione del fondatore e direttore Ugo Picarelli, hanno nominato presidente onorario Munir Bucenaki per attribuirgli riconoscimento a quanto fatto per il territorio salernitano e legittimare il suo costante ruolo di ambasciatore della BMTA nel mondo.